ciao a tutti bentrovati sul mio canale veri ASMR io sono Federica e quello che state per guardare è naturalmente un nuovo video ASMR rilassante in particolare questa volta si tratterà di un get ready with me come avrete potuto intuire dalla mia faccetta completamente struccata e anche un po' provata direi quindi in sostanza mi trucco con voi ho qui il mio beauty con pochi prodotti perché voglio realizzare un trucco davvero unito semplice e il tema del get ready with me lo avete scelto voi e sarà i 5 linguaggi dell'amore infatti ho letto da poco questo libro scritto dal dottor Gary Chapman che si intitola proprio i 5 linguaggi dell'amore come dire di amo alla persona amata e voglio un po' darvi le mie considerazioni su questo tema che spero possa essere interessante per voi mi raccomando voi indossate le cuffie distendetevi lasciate un like se questa idea vi piace e iscrivetevi naturalmente al canale se non siete ancora iscritti attivo anche la campanellina e noi iniziamo allora intanto vi faccio vedere la mia maglietta quindi di sicuro l'avevate già vista su instagram i get up early or i get up friendly mi descrive assolutamente credo di averla già indossata in qualche altro video tra l'altro e vi ricordo a questo proposito che su pampling è ancora attiva la promozione di tutte le maglie a 10 euro minimo 3 maglie ovviamente metto il mio burro di cacao al miele della Innisfree e vorrei accendere almeno per qualche minuto questo diffusore che mi ha regalato Piero direttamente dalla mia lista amazon tra l'altro andate già in descrizione a guardarla se avete voglia di fare un regalino al canale ho messo all'interno l'olio essenziale di rosa che mi piace moltissimo allora 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 vediamo un po' qui ho dei capellini ho i capellini sono un tipo di pasta ho dei capelli che stanno ricrescendo e adesso sembro sicuramente una pazza comunque ho già fatto la mia skin care quindi adesso passo questo siero della Laneige sempre sempre skin care coreana e inizio a dirvi che allora in questo libro che comunque vi consiglio assolutamente di leggere soprattutto se siete in coppia o comunque se vi interessa sapere come comunicare amore alle persone a cui volete bene l'autore fa diversi riferimenti anche alla religione e questa è una cosa che ho notato in diversi libri di psicologi americani a dire il vero non mi piace particolarmente questo aspetto perché trovo che l'ambito della psicologia debba essere separato dall'ambito della religione però capisco che la religione sia molto importante nella cultura americana e anche inserita in modo abbastanza radicale in diversi aspetti della loro cultura comunque a prescindere dalle digressioni religiose io l'ho trovato un libro assolutamente illuminante faccio una fase molto leggera con il cushion di Peach si sempre i prodotti della skincare coreana ultimamente mi stanno piacendo veramente tanto e comunque a quanto rivela il libro ognuno di noi ha un linguaggio principale con il quale esprime l'amore e soprattutto con il quale capisce di essere amato i linguaggi attraverso i quali si può esprimere l'amore sono appunto 5 e sono contatto fisico gesti di servizio parole di rassicurazione momenti speciali e regali qui qui veniamo al motivo per cui su instagram abbiamo scelto insieme mi avete suggerito voi di parlare di questo tema stavo proprio ringraziandomi per i doni che mi avete inviato durante le ultime settimane attraverso la mia lista amazon per il canale e dicevo che appunto quello di fare dei doni è uno dei linguaggi d'amore tra l'altro uno dei principali uno dei più diffusi ma veniamo agli altri proverò a spiegarvi al meglio il significato di questi 5 linguaggi d'amore tra l'altro ecco ho appena messo il blush liquido di peripero vedete quello che era all'interno del mini fridge ti rimando al video sulla skin care coreana se ancora non l'avete visto è uno scantello molto tranquillo in cui vi spiego un po' il funzionamento di questi prodotti bene adesso ad assettare la zona del contorno occhi con la cifra di Purpio indissoluble allora per quanto riguarda il contatto fisico ci sono appunto alcune persone che comunicano il proprio amore attraverso gesti fisici o che ritengono di essere amate maggiormente proprio quando ricevono questo tipo di attenzioni di gesti e nel contatto fisico rientra ovviamente gli abbracci i baci le carezze anche quelli dati durante la giornata e senza un motivo particolare adesso spengo un po' questo ok che forse il suono cambia un pochino matita per gli occhi sempre di Purpio è nero ma andrà a scomarla dunque per quanto riguarda i gesti di servizio sono tutti quei gesti che esprimono solitarietà per esempio aiutarsi a compiere le faccende domestiche ma non solo anche aiutarsi a portare a termine magari un progetto o sollevare la la persona che si ama il nostro partner da qualche incombenza gravosa e questo io si lo faccio rientrare nell'ambito della solidarietà e nella logica del lavoro di squadra ok poi ci sono le parole di rassicurazione e questo è uno dei miei linguaggi preferiti in pratica le parole di assicurazione comprendono parole di stima come per esempio i complimenti ma anche parole di incoraggiamento e di apertura trasparenza nella dichiarazione dei propri sentimenti e dei propri stati d'animo questo potrebbe essere il vostro linguaggio d'amore principale se ritenete se ritenete che sia importante sentirvi rivolgere frasi di apprezzamento e se appunto comunicate il vostro affetto facendo facendo sentire il vostro partner stimato la cosa bella che scoprirete poi leggendo il libro semmai lo farete è che ogni linguaggio ha dei dialetti e il concetto alla base del libro è che l'amore quindi non l'innamoramento ma l'amore per proprio sia una scelta una scelta che si compie cercando di parlare nel modo migliore possibile il linguaggio d'amore principale del nostro partner il quarto linguaggio è costituito appunto dai momenti speciali o tempo di qualità e questo potrebbe essere il vostro linguaggio d'amore principale se vi sentite amati quando fate qualcosa di bello qualche attività insieme al vostro partner se per voi è molto importante magari celebrare delle ricorrenze insieme e regarvi a pranzo o a cena fuori e insomma organizzare vacanze col vostro lui o con la vostra lei il tempo di qualità quindi i momenti speciali non sono semplicemente stare seduti sul divano guardare la televisione perché questo questa è un'attività diciamo passiva a meno che non interagiate molto durante la visione del film e la differenza tra tempo speso vicini e tempo speso insieme sta proprio nella qualità del tempo nel tipo di attività che si fanno insieme nell'avere lo stesso scopo diciamo e nell'essere felice di perseguirlo insieme naturalmente potrebbe accadere che per una persona una certa attività non sia proprio piacevole da svolgere di per sé e che questa persona si impegni a svolgerla insieme al partner perché al partner è gradita invece e secondo l'autore del libro questo rappresenterebbe un'alta espressione d'amore proprio perché si tratterebbe di una scelta consapevole e appunto l'ultimo linguaggio d'amore è costituito dai doni non devono essere per forza regali costosi tra i doni ci sono anche i bigliettini con frasi amorevoli per esempio oppure non so i fiori oggetti che non hanno un costo ma che indicano che la persona che ha donato ha preso del tempo per pensare all'altra persona e appunto per renderla felice adesso metto un po' di rossetto e voglio mettere questo long lasting rossetto liquido di Wycom e questo è il numero 92 vediamo se c'è scritto anche il nome no mi pare di no solo numero 92 fatemi sapere se sapete a cosa corrisponde comunque a un mapa mi piace moltissimo e dicevo esiste un test che cerco di linkarvi qui sotto nell'info box per scoprire qual è il vostro linguaggio d'umore principale io vi consiglio se siete in coppia di effettuare questo test insieme al vostro partner cioè di farlo effettuare anche a lui o a lei in modo che possiate essere consapevoli appunto di quale sia il suo linguaggio d'umore principale e se volete impegnarvi a far funzionare la relazione di imparare a parlarlo nel caso non fosse anche il vostro linguaggio d'umore principale perché è molto probabile che siate più bravi a parlare quello che è anche per voi il linguaggio principale è il vostro diciamo veicolo principale per comunicare l'amore secondo questo libro quando si impara a parlare il linguaggio d'amore principale del nostro partner il suo serbatoio d'amore risulta riempito il partner si sente gratificato e il clima emozionale della relazione migliora notevolmente sono molto molto curiosa di sapere quale sia il vostro linguaggio d'amore principale o quale pensate che sia mi si è tolto lo smalto e magari se credevate fosse uno di questi ma poi attraverso il test avete scoperto che in realtà si tratta di un altro e il mio linguaggio d'amore principale se volete saperlo è il contatto fisico e quasi a pari merito e sono le parole di rassicurazione beh trucco finito io adesso esco per andare a terapia e niente spero che passiate una buona serata se state andando a dormire spero che questa sia per voi una buona buona notte e che questo video vi sia piaciuto vi abbia rilassato il video chicchieriggio quindi è molto semplice ve l'avevo anticipato fatemelo sapere con un commentino e lasciando un like e noi come al solito ci vediamo se vi va nel prossimo video baci nicotosi adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della fairy crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte